Ciao a tutti ragazzi, credo che vi parla e benvenuti in questo video dove siamo già alla fine anche dell'anno 2012, ma che cazzo fate casino di sopra? E come non premiare la fine di quest'anno con due cose in un video solo? Uno, un contest di fine anno che terminerà il 15 gennaio con tre premi in palio su Steam, quindi chi non mi ha su Steam mi aggiunga nel link qui sotto per aver la probabilità di vincere, insomma adesso vi spiego un pochettino le regole del concorso, dovrete essere iscritti al canale, avermi come amico su Steam, mettere mi piace al video e come? Commento scrivere partecipo più il nome del vostro account, così so chi siete voi su Steam. I premi sono tre e sono per il terzo classificato Dungeon Defenders, per il secondo classificato Portal 2, e per il terzo classificato... e così vi vedete, ciao! Per il primo classificato avremo Sirius M.H.D. The Second Encounter, questo contest lo faccio solamente per voi ragazzi, altrimenti i soldi me li sarei tenuti, quindi state tranquilli, è tutto fatto per voi. Quindi se volete partecipare basta solamente che seguite le piccole regole che ci sono ed alla fine tutto a posto. Scusate che sentirete interferenze col microfono, quindi tolgo il telefono che è noioso. Ok, prima di tutto, dopo avervi spiegato come fare questo contest, siccome siamo alla fine dell'anno, perché non fare una bella top 5 con i migliori giochi che usciranno l'anno prossimo? Vaffanculo sta videocamera che cambia in quadratura la cazzo di cane, così, proprio perché non ha niente da fare, quindi la cambia. Allora, su questo foglio ho scritto, secondo me, i migliori 5 giochi che usciranno l'anno prossimo. Ovviamente sono solo gusti personali e magari scrivete anche voi nei commenti quali sono i giochi che vi colpiranno di più l'anno prossimo. Partiamo con la posizione numero 5, che è... Grand Theft Auto 5. Dunque, l'ho messo in quinta posizione perché sì, sono felicissimo che esca, ma... C'è un piccolo problema. Non è stato ancora annunciato per PC. Solo per quello è in quinta posizione. Alla posizione numero 4 invece troviamo Metro Last Light. Finalmente, dopo che THQ ha annunciato purtroppo bancarotta, ho temuto che non potrei aver avuto la mia copia di Metro Last Light, quindi per fortuna qualcun altro ha comprato tutti i giochi, non mi ricordo chi è, quindi lo avremo l'anno prossimo insieme a tutti quegli altri che dovranno uscire. E io sono felice. Terza posizione. Watch Dogs. Di solito non sono molto un tipo di giochi della Ubisoft, per alcune cose come Assassin's Creed. Però quest'anno, anzi l'anno prossimo diciamo così, questo Watch Dogs diciamo che mi ha causato un'erezione multipla, solamente con un piccolo trailer. Quindi non vedo l'ora che esca per provarlo, perché so che sarà veramente un bel gioco. Seconda posizione. Remember me. È un gioco che si sono cagati in pochi, ma io l'ho notato subito. È veramente... non saprei dirvi di cosa tratti. È solamente... parla di una ragazza che ha poteri di poter rubare i ricordi alla gente perché a lei gliel'hanno sottratti e quindi lei dovrà fare in modo di utilizzare questi ricordi degli altri a suo favore. Robe varie, più o meno. Non saprei dirvi di più. E prima posizione troviamo Tomb Raider. Non ho mai giocato a un capitolo di Tomb Raider, devo esserne molto sincero, ma vedendo i trailer, i screenshot, i gameplay di questo nuovo Tomb Raider, devo dire che mi ha veramente attirato molto e quindi sono molto felice di poterlo avere, di poterlo giocare. Ragazzi, questa è stata una velocissima top 5 dei migliori giochi del 2012. Mi raccomando, fatemi sapere anche voi nei commenti quali sono i giochi che aspettate, partecipate al contest in tanti e se vedo che andrà bene, in futuro ne organizzerò molti altri. Un saluto da Teo, arrivederci al prossimo video. Ciao!